Io sono molto felice di avere ospite qui e cominciare proprio questo segmento di Domenica Inn con Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Grazie Ministro di essere qua. Grazie a te Mara, saluti a te altri film e spettatori. Grazie, grazie, grazie per avercettato l'invito. Noi ci siamo viste in collegamento poche settimane fa, però insomma preferivo averti in studio. Noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo e per cui sarebbe sciocco. Darci del lei, però credo che sia veramente importante fare un bilancio con te. Sì, con piacere. Allora, a che punto siamo? Quando io dico possiamo tirare un respiro di sollievo? Diciamo Mara che siamo all'ultimo miglio, nel senso che finalmente possiamo dare delle buone notizie. Al tempo stesso non è un liberi tutti perché sappiamo quanto sia accanito questo virus e quindi dobbiamo mantenere prudenza, però certamente gli italiani si sono meritati questo miglioramento della situazione con tanti sacrifici e oggi, insomma, da domani, anzi l'Italia sarà zona gialla e quindi già questo è un grande traguardo. Ma insomma è anche la settimana delle riaperture. Finalmente in questo weekend i centri commerciali sono aperti, domani apriranno le palestre, sappiamo che il coprifuoco, che non ci piace, però è stato spostato alle 23 e dalle 7 di giugno verrà spostato alle 24 e finalmente il 21 giugno ce ne libereremo. E quindi insomma sono tante le riaperture. Questo è molto importante sia per noi che respiriamo un po' di libertà e per gli imprenditori. Assolutamente. Perché effettivamente ci sono alcuni settori in ginocchio. Maria Stella, tu sei arrivata da poco, da qualche mese, ecco, qual è stato il tuo approccio? Poi parliamo della situazione vaccinale nelle regioni, però umanamente mi piace sempre entrare anche nel personale. Il primo confronto che ho avuto con i governatori e con le regioni è stata in questa sala che ricordavo essere una sala affollata, in realtà era una sala deserta in cui c'era solo questo monitor con tanti governatori in collegamento. Ho trovato disi di persone provate, perché comunque i sindaci, i governatori, gli amministratori, credimi non hanno passato un anno facile nemmeno nel loro ruolo. E quindi ho trovato delle persone disponibili a fare squadra, al tempo stesso preoccupate, e anche un po' provate per un anno che davvero è stato durissimo. Però adesso i risultati di tanto lavoro cominciano ad esserci. E quindi insomma il paese penso che sia in cammino verso una normalità che di giorno in giorno stiamo riacquistando. Ci sono delle regioni più in difficoltà di altre? Perché l'Ambadia è recuperato benissimo, Lazio è sicuramente una regione virtuosa. Ma per quanto riguarda tutte le altre? Beh, sicuramente ci sono 21 sistemi sanitari regionali e quindi è chiaro che ci sono diverse velocità. Però credo che il governo abbia fatto una scelta coraggiosa ma giusta nel dare delle regole, una cornice regolatoria uguale per tutti. Credo che il successo del piano vaccinale stia in questo, che finalmente sono state decise le categorie prioritarie da vaccinare per mettere in sicurezza le persone più fragili che incontrando il Covid potrebbero andare incontro alle conseguenze più gravi. E quindi dando regole chiare, uguali per tutti, questo ci sta consentendo di correre. E oggi noi abbiamo 10 milioni di persone che sono già vaccinate, altre 10 milioni che hanno avuto almeno una dose e questo le mette comunque al riparo. Se poi consideriamo che circa 4 milioni di persone hanno contratto il Covid e lo hanno superato... E hanno gli anticorpi. Esatto, tutto questo ci porta ad una situazione che non è ancora quella della Gran Bretagna ma si avvicina. Si parla di 30 milioni di italiani però vaccinati nel totale o almeno con una prima dose. 30 dosi distribuite. Allora arriveranno i vaccini nelle farmacie, abbiamo già parlato di come è stato accelerato il tutto e ringraziamo anche il generale Figliuolo, devo dire che lui è stato davvero molto bravo. e va detto che... Devo dire che la sua cultura militare, il suo ordine militare fa la differenza. Ogni tanto striglia tutti però alla fine lo fa proprio perché si rende conto che il successo della campagna vaccinale è legato al fatto che tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Quindi bisogna moltiplicare i vaccinatori e il fatto che in alcune regioni, per esempio nel Lazio, dal primo giugno ci si possa vaccinare anche in farmacia. Ci aiuta a correre. Solo con Johnson e Johnson però mi pare, no? Nel momento sì, ma l'idea è quella di allargare a tutte le regioni e quindi comunque di utilizzare anche gli altri vaccini. Maria Stella, tu ti sei vaccinata? No, io non ancora. Quando arriverà? Perché sei ancora molto giovane. Spero. Tra un po'. E per te sarà qualsiasi vaccino anche a AstraZeneca, il tanto chiacchierato a AstraZeneca? Io credo che l'unica paura che dobbiamo avere è quella di non essere vaccinati perché dobbiamo avere fiducia nella scienza. In questo ci sembra normale, ma è un risultato straordinario il fatto di aver ottenuto più di una tipologia di vaccino in così poco tempo. In genere i vaccini venivano costruiti negli anni. Qui dobbiamo dare atto alla scienza di avere raggiunto un risultato straordinario in un tempo veramente isperato. Guarda, era insospettabile. Quando è cominciato si parlava veramente di anni. Io ti posso dire una cosa mia personale che non ho mai detto, perché non ho mai parlato dei miei... Io ho già fatto le due dosi di vaccino, ma sarà perché ne ho parlato così tanto in questo anno e mezzo? Perché siamo stati qua col mio gruppo, insomma abbiamo sofferto tanto, abbiamo perso anche delle persone a noi molto care. E inevitabilmente ti devo dire che io in questo momento, che vediamo la luce, come hai detto tu, che manca l'ultimo miglio, non posso non pensare a chi non c'è più. Non posso non pensare a chi non c'era fatta. Io personalmente, forse perché ho assimilato tutto questo e ho avuto tanta paura, io comunque ero qua con un'età molto a rischio. Di solito alla mia età si sta a casa, non si esce, non si vede nessuno, non si vedono i nipoti, ma quando ho fatto la prima dose sono scoppiata a piangere. Ci credo, ci credo. Sono scoppiata a piangere perché ho detto forse cominciamo a vedere un po' dal punto di vista emotivo ho avuto questa reazione qua. Devo dire, Mara, che è giusto anche ringraziare tutti coloro che anche adesso stanno lavorando. All'inizio della pandemia ce ne siamo ricordati tanto dei medici, degli infermieri, dei volontari. Ecco, ricordiamoci che anche adesso queste persone non si sono mai fermate e stanno facendo negli hub vaccinali un lavoro pazzesco. E questo ci deve riempire di gratitudine nei confronti di queste persone che fanno sacrifici enormi per garantire la nostra salute. Io li chiamo i nostri eroi, Maria Stella, perché loro lo sono stati veramente nel momento più brutto. Parliamo di turismo, io rilancio. Dopo avremo Francesco Panella che è un imprenditore, scrittore. Avremo anche Enzo Miccio perché dobbiamo riparlare anche di questi matrimoni. Perché questi matrimoni che vengono rimandati da un anno a questa parte, poi ne parleremo con Miccio. Perché poi qualcuno ci può pure ripensare, per cui cerchiamo di accelerare e sposiamoci, facciamo quelle belle feste. Allora, il turismo in Italia. Intanto cominciamo a dire che, visto che usciamo di casa e torniamo alla normalità, la prima cosa che dobbiamo fare per sostenere il turismo è fare le vacanze in Italia, per chi se lo può permettere. Perché il nostro paese ha davvero tantissime città d'arte, isole meravigliose, montagna e mare. Quindi il primo modo per fare una vacanza solidale è farla in Italia. Il nostro lago di Garda e tanti altri posti assolutamente meravigliosi. E poi ci sono tante, scusami se ti interrompo, però ci sono già tante prenotazioni. Assolutamente. Cioè sta andando bene? Molto bene. Molto bene. C'è voglia di Italia, c'è voglia di trascorrere le vacanze qui. L'impegno del governo è quello di consegnare un'Italia covid free. E quindi il primo biglietto da visita di questo paese deve essere la vittoria sulla pandemia e sul covid. Noi ci auguriamo davvero nell'arco del mese di giugno, insomma, di fare davvero un ulteriore passo in avanti e quindi mettere in sicurezza il nostro paese. Dal 15 giugno ripartiranno anche i matrimoni, però. Assolutamente. Questa è stata, Mara, una mia battaglia, perché devo dire che mi avevano colpito non solo le associazioni del wedding, perché sembra un settore minoritario, ma non lo è, perché ci sono un milione di persone che lavorano attorno alle cerimonie, attorno a questi eventi. E peraltro uno dei sacrifici che l'Italia ha dovuto fare per molti giovani è stato quello di rinviare anche più volte il matrimonio. Questi giovani volevano una data e finalmente questa data c'è. Dal 15 di giugno ci si può sposare, si può festeggiare il proprio matrimonio. È chiaro che si voleva anticipare ulteriormente, questo non è stato possibile, però devo dire che da luglio è stato anticipato comunque a metà giugno. Ci si potrà sposare e fare le cerimonie con il Green Pass. Non ci sarà il Covid Manager, perché non abbiamo... Cos'è il Covid Manager? Perché questo non l'ho capito. Diciamo, nei protocolli per le riaperture per i matrimoni, alcune associazioni generosamente avevano previsto proprio per garantire il rispetto del distanziamento delle figure dedicate. Però è chiaro che era un costo eccessivo, non serve, ci fidiamo, sappiamo che il rispetto delle regole è stato attuato nella stragrande maggioranza dei casi e quindi è chiaro che servirà il distanziamento e il numero degli ospiti sarà proporzionato alla capienza del locale. Quindi credo che anche questo sia un passo in avanti importante. E noi abbiamo anche stanziato 200 milioni di euro per sostenere questo settore. In realtà il governo Mara in tre mesi ha stanziato più di 70 miliardi per sostenere l'economia italiana. Sappiamo che la cosa più importante non è il ristoro, ma è la riapertura. Adesso anche i matrimoni riaprono, ma per chi è rimasto chiuso per tanto tempo, comunque questi sostegni, queste risorse sono certamente utili. Assolutamente. Arrivano tutti? Arrivano, sono stati stanziati e arrivano, devono arrivare. Mi spieghi il Green Pass, questa carta verde, perché io non ho capito. Guarda, è molto semplice, perché non volevamo complicare la vita agli italiani. Riguarda tre tipologie di situazioni. Chi ha fatto il Covid e ha gli anticorpi, chi è stato vaccinato e chi nelle 48 ore precedenti ha un tampone con esito negativo. Attraverso questa certificazione si poteva, laddove le regioni non fossero ancora gialle, spostarsi da una regione all'altra e ovviamente il nostro intendimento è quello di allargare l'utilizzo del Green Pass per tante situazioni mano a mano che si riapre il Paese. Sicuramente servirà anche per i matrimoni e poi arriverà anche un certificato europeo, ma quello è qualcosa che non dipende dal governo, dipende dall'Europa. Noi siamo arrivati un po' prima, abbiamo cercato di allentare le maglie utilizzando gli strumenti che avevamo a disposizione. Un'ultima domanda prima di salutarti, perché so che hai tanto da fare e non puoi rimanere, per cui ti ringrazio però per questo spazio, perché è importante per chi sta a casa, per chi ci ascolta. Grazie a te. Allora, che cosa ne pensi della seconda dose in villeggiatura? Se ne parla tantissimo. Allora, qui bisogna decidere che cosa è più importante, la villeggiatura o il vaccino? Allora, guarda. Rispondo io che sono voce del popolo. Il vaccino! Assolutamente. Il vaccino! Il vaccino! Le cose stanno esattamente così. L'idea di vaccinarsi in vacanza è suggestiva, ma oggi rischieremmo di compromettere i risultati importanti del piano vaccinale. Il generale Figliuolo ci tiene, e non a caso, al rispetto rigoroso delle priorità. Noi dobbiamo mettere in salvaguardia quegli over 60, quegli over 70 che ancora non hanno ricevuto il vaccino, quindi avremmo dei problemi logistici. La cosa importante è che tutti remiamo nella stessa direzione e tutti applichiamo le stesse regole. Poi se ci saranno regioni che corrono più veloce, quindi dopo aver attuato il piano vaccinale del governo, riusciranno a fare qualcosa in più, ben venga. Però oggi credo che si possa anche tornare dalla vacanza per fare il vaccino. Non l'abbiamo aspettato tanto. Io sono d'accordo con te. Ministro, un'ultima cosa. Mi raccomando agli anziani che non possono muoversi. Cioè ci sono ancora alcuni anziani. Intanto possiamo adesso andargli a trovare nell'RSA. E quello lo so già, ed è un passo in avanti. Perché il 98% dei nostri nonni, dei genitori nell'RSA è stato vaccinato. Quindi se siamo vaccinati, se abbiamo un Green Pass, possiamo andare a trovarli. Però ci sono quelli a casa che sono lì, soli, che hanno bisogno di essere vaccinati. Per cui mi raccomando anche un'attenzione a loro che ci seguono, ci guardano sempre con tanto affetto. Grazie Maria Stella. Grazie a te Maria. Noi andiamo avanti fino a giugno. Per cui io sono qua. Buon lavoro a te. Grazie. Vediamo le regole.